Ciao a tutti, intanto grazie per il livello alto di attenzione che c'è e forse questa attenzione significa che ormai inizia a essere abbastanza chiaro che non stiamo parlando di un problema passeggero. Io ho negli ultimi 15 anni incontrato tanto pubblico, tanti italiani e nonni in giro per le città d'Italia e d'Europa a parlare di queste storie, di questi incontri e spesso si alzava qualcuno che mi chiedeva ma qual è la soluzione a questo problema? Come se l'orizzonte di confronto con tutto ciò fosse comunque quello di sperare che tutto ciò scomparisse. E questo è il cardine, il perno su cui si costruisce l'incubo raccontato come sogno che in questo momento sta trascinando molte persone a dare consenso a questo stesso incubo. Cioè il perno è se state con me che io faccio il cattivo questa cosa scompare. Non preoccupatevi, ve la tolgo di dosso. E questa sensazione che questa storia possa avere un finale che prevede il poter non vederli più è una sensazione che ci ha accompagnato in qualche modo fin qua e che io inizio a capire che tante persone capiscono che questo non può essere l'orizzonte. Non possiamo immaginare che questa storia abbia una conclusione con il rinchiudere una maggioranza dell'umanità al di fuori del nostro orizzonte visivo. Tante persone iniziano a capire che questo incubo che viene venduto come sogno è un vero incubo non soltanto per quelle persone che rimarrebbero chiuse al di là del nostro orizzonte visivo ma diventa un incubo anche per noi che rimaniamo protetti a non vederli perché è dentro a noi che si sta costruendo un immarcimento sempre peggiore delle relazioni. Per molto tempo anche le persone che hanno voluto prendere impegno, agire, cercare di fare qualcosa di bene, di provare ad aiutare chi stava male hanno comunque sempre vissuto tutto ciò come c'è qualcuno che sta male proviamo a dargli una mano. Il modo con cui viene attaccato il mondo dell'NG oggi è collegato a questa visione, cioè loro sono quelli che si occupano troppo di quelli che stanno male e se eliminiamo anche loro forse riusciremo davvero a non vedere quelli che stanno male ma è sempre un qualcosa che è come se fosse fuori da noi e invece iniziamo a capire che questo fuori da noi in realtà è dentro noi che quello che stiamo vivendo è una trasformazione dei rapporti globali, sociali, demografici che diciamocelo nessuno se l'aspettava. Quando io sono stato per puro caso, non faccio nessun eroismo, mi ci sono trovato assolutamente per sbaglio nel deserto del Tenere nel maggio del 2006, cioè 12 anni fa e mi sono visto persone che attraversavano il Tenere dentro i camion che tornavano indietro, che facevano... il Tenere vi assicuro che è un posto di merda che non avete idea cioè è una spiaggia di 200 chilometri infinita in cui ci sono di media 45 gradi e in cui non capisci chi sei, dove sei e c'erano esseri umani che attraversavano questi luoghi e lo facevano semplicemente perché qualcuno gli aveva detto che non potevano farlo. E questa cosa nella storia dell'umanità non era prevista, non era prevista che qualcuno si mettesse ad attraversare migliaia di chilometri a piedi in mezzo al deserto e poi si mettesse in delle barche che molto probabilmente affondano perché sai perché lo faccio? Perché scappo dalla povertà, sono disperato. No, soprattutto lo faccio perché tu mi hai detto che non posso e se tu mi dici che non posso io lo faccio. Questa cosa nella storia dell'umanità non era prevista. Questa cosa si pensava che si potesse riuscire a tenerla nascosta da qualche parte, sotto a centinaia di anni di colonialismo e schiavitù sotto centinaia di anni di sfruttamenti che continuano a andare nella stessa direzione beh, invece sta succedendo e che questa cosa che succede crea tantissime tensioni e tantissimi problemi rispetto a chi si vede arrivare questo movimento, beh, mi sembra assolutamente naturale. Ora dobbiamo decidere se queste tensioni e questi problemi li vogliamo trasformare in qualcosa per capire che questo movimento ci sta dicendo vanno cambiati gli equilibri, vanno cambiate le disuguaglianze, vanno cambiate delle condizioni inaccettabili o se vogliamo rinchiuderci dentro a quel finto sogno che in realtà è un incubo. Cioè siamo davanti ad un bivio di posizione etica e storica che è veramente potente ed è veramente difficile da contenere soltanto dentro a noi stessi perché se ogni volta ci mettiamo a chiederci se la nostra vita può ospitare tutto ciò, ovviamente ci sentiamo schiacciati, ci sentiamo piccoli e io capisco le persone che si rinchiudono, si cercano una protezione rispetto all'immensità di questa cosa in qualcuno che gli promette che potranno rimanere protetti dentro a casa loro. Lo capisco questo istinto, è un istinto che non voglio negare, è un istinto che non voglio indicare come colpevole, è un istinto che esiste perché quello che sta succedendo è un qualcosa di veramente straordinario, di veramente potente, però sta succedendo e continuerà a succedere finché noi non andiamo a dialogare, a capire quali sono i motivi di base di questa trasformazione. I motivi di base sono sicuramente da rintracciare in tutta la storia degli sfruttamenti economici, del colonialismo, dei paesi della globalizzazione e lì rischiamo di perderci in un altro oceano di cause che non possiamo contenere dentro la nostra vita, però c'è un motivo di base che possiamo invece capire perché possiamo riferirlo anche a dei pezzi di storia delle nostre famiglie, che possiamo riferirlo alle nostre vite quotidiane, a quello che sta succedendo nelle nostre vite rispetto a generazioni precedenti e questo motivo di base è la negazione del diritto alla mobilità, la negazione del diritto di poter scegliere dove io vorrei vivere, ma poter scegliere anche di poter stare a casa mia, cioè la scelta di poter stare a casa mia è una scelta che io posso prendere nel momento in cui ho anche il diritto di andarmene, se io invece non ho il diritto di andarmene e mi dicono tu devi stare lì, la voglia di andarmene cresce costantemente, certamente cresce di più se ho delle condizioni materiali, se ho delle spinte pesanti che hanno a che fare con la mia vita, ma è comunque insita nel divieto stesso. Allora io credo che un perno della sfida enorme che abbiamo di fronte e attraverso la quale possiamo tentare di dare una risposta a questo incubo che sta facendo falsamente sognare troppo persone sia quello di provare a mettere davanti il sogno che questo diritto possa diventare un diritto sempre più allargato e che chiaramente nell'allargare questo diritto alla mobilità ci dobbiamo iniziare a chiedere quali sono i modi con cui farlo, quali sono le difficoltà, le tensioni che possiamo affrontare, ma quello dobbiamo tenere come orizzonte, perché se l'orizzonte invece è chi è più capace di ridurre gli sbarchi e chi riesce ad avere la sua cazzo di tabellina su Repubblica in cui ha ridotto gli sbarchi di più e allora spera di vincere le elezioni, quello è un orizzonte oltre a essere triste e noioso, è un orizzonte assolutamente perdente rispetto alla sfida umana che abbiamo di fronte. Quando nel 2014 Riccardo ha parlato spesso di Mare Nostrum, Mare Nostrum fu un'operazione che sicuramente pose un orizzonte di coraggio altro rispetto ad altre cose fatte precedentemente, perché disse ok dobbiamo fare un'operazione di salvataggio non solo di blocco. Però ci sono due cose che hanno fatto veramente male di quell'operazione, cioè ci sono stati due errori profondi di cui stiamo pagando oggi le conseguenze. La prima fu che quell'operazione costruì un'alternativa all'incubo che prima era di Maroni, oggi è di Salvini, cioè l'incubo di bloccarlo, facendo credere che l'alternativa è invece noi li prendiamo nel Mediterraneo e li salviamo, così risolviamo il problema. Ma questa era un'ipocrisia pesante perché le persone che arrivavano a poter essere salvate da Mare Nostrum erano arrivate fin là già rischiando la vita molte altre volte prima e comunque Mare Nostrum tante persone non le ha potute salvare. Quindi la capacità salvifica di quell'operazione in realtà conteneva un'operazione retorica che copriva il fatto che continuavamo a negare a quella persona il diritto di potersi muovere in maniera sicura. Cioè fin là ci dovevi arrivare pagando i trafficanti, rischiando la vita nel deserto, rischiando la vita nel mare e se qualcuno ti trovava ti salvava, ma strutturalmente avevamo cambiato qualche decina o forse centina di miglia rispetto a migliaia di chilometri di rischio di vita. E questo ci ha fatto abituare al fatto che la cosa di cui ci dobbiamo occupare e su cui ci dobbiamo dividere è se vogliamo salvare o no le persone nel Mediterraneo. Sono d'accordissimo con Riccardo, io le voglio salvare, certamente, ma non è lì che stiamo davvero costruendo un'alternativa di orizzonte rispetto a quello dell'incubo marognano-salviniano che ci viene proposto come sogno. Non è lì il punto in cui possiamo provare a destabilizzare questo meccanismo. È certamente lì il posto dove possiamo andare a salvare degli esseri umani e quindi, per carità, è giustissimo farlo lì dove è necessario farlo. Ma come hai detto anche tu e come è giusto continuare a dire, lì non si gioca la vera partita. Lì si gioca soltanto l'ultimo pezzo disperato della partita. Cioè, quando, avendo negato delle persone il diritto di esistere, proviamo a salvarle mentre stanno morendo. L'altro grande abbaglio che Mare Nostrum ha costruito è che non è stato detto che quelle operazioni erano gestite da servizi militari, da servizi segreti militari, che nel frattempo stavano preparando il terreno al progetto Minniti successivo. Nelle navi di appoggio all'operazione Mare Nostrum venivano addestrati i primi capi milizia che poi andavano a costituire la guardia costiera di cui parlava Giulia. Ho esagerato? Le fonti di informazioni con cui ho potuto lavorare per scrivere la sceneggiatura dell'Ordine delle cose sono persone che hanno iniziato a lavorare al progetto degli accordi con la Libia che fa ridere chiamare i nuovi accordi perché si riferiscono in realtà ad una storia molto lunga che parte almeno dal 2005-2006, ma comunque le persone che dovevano, i funzionari che dovevano rincominciare a scrivere quella storia, che dovevano rincominciare a tessere le relazioni con i nuovi poteri libici per rifare la stessa cosa, cioè i funzionari che dovevano continuare a reiterare lo stesso ordine delle cose iniziano a lavorare esattamente in quegli anni, iniziano a lavorare esattamente in quei mesi, iniziano a lavorare esattamente in quelle navi che nel frattempo vengono raccontate come navi di salvataggio e il governo che in quegli anni si vende a livello mediatico e a livello di politica europea come il governo che salva gli esseri umani è lo stesso governo che inizia ad attivarsi per poter aprire quel terreno che oggi Salvini continua a frequentare perché è l'assenza di un altro orizzonte che impedisce di immaginare qualcos'altro e allora anche il salvataggio, e questo è secondo me veramente brutto, non so come dirlo in una maniera più forbita anche il salvataggio diventa copertura di una strategia che in realtà è quella dell'incubo cioè io devo comunque trovare un modo per tenerli al di là e utilizzo le barche dei salvataggi per iniziare a formare i miliziani che poi bloccheranno e tutto ciò viene fatto dai governi di centro-sinistra a partire dal 2013-2014 e se oggi viviamo con ansia l'incubo della esplicita posizione cattiva, razzista, xenofoba di Salvini è perché tantissimo terreno, terra bruciata è stata fatta in quegli anni in cui questa operazione di respingimento veniva preparata allora ringrazio molto Giulia che ci ha portati un po' più a sud ci ha portati in Gambia e ci ha portati a incontrare poi quali sono le storie di vita le persone, i luoghi di origine che sono protagonisti di questa storia ed è lì che dobbiamo arrivare ad avere il coraggio di mettere mani cioè capire che cosa significa per una persona provare a tentare di avere una strada di migrazione regolare in Gambia significa entrare in un mondo quasi del fantasy, non so come definirlo cioè è una cosa irrealizzabile quella di dire io Gambiano vorrei andare a cercare lavoro, studiare trovare un parente in quel luogo cioè è così come io Burkina Beo, così come io Maliano, così come io Senegalese e attenzione uno dice cazzo ma così viene tutto il mondo qua ma stiamo parlando di tutto ciò di cui abbiamo parlato stiamo parlando di un bacino di paesi di origine che non è tutto il mondo sono i paesi che hanno diciamo una contingenza geografica che fa pressione verso il luogo in cui noi siamo che non sono così tanti non sono una cosa, un universo immenso che non possiamo trattare se voi guardate i dati degli sbarchi degli ultimi 15 anni parliamo di una decina di paesi con cui poter provare a costruire delle relazioni con cui poter provare a costruire dei canali di ingresso regolare che significa dare alle persone la possibilità di viaggiare in maniera regolare significa che questi possono viaggiare e tornare perché esiste anche l'incubo che tu non puoi tornare a casa cioè esiste l'incubo che tu ti ritrovi bloccato in un posto dove hai dovuto fare richiesta d'asilo e ti sei dovuto trovare dentro dei progetti di accoglienza che non volevano essere di accoglienza a differenza di quello di Riaccio perché ne esistono tanti di posti che si sono inventati di essere di accoglienza perché gli hanno detto guarda ci sono i soldi per fare questa cosa e tu ti sei ritrovato bloccato e dici ma io adesso vorrei tornare vorrei andare no non puoi più fare un cazzo devi stare là parcheggiato finché ad un certo punto ti diniegano tu dici cazzo sono diniegato cosa vuol dire? che sono cazzi tuoi essenzialmente il diniego significa questo perché poi neanche ti espellono perché non hanno neanche i soldi per espellerti ma invece riuscire ad andare in Gambia riuscire ad andare in Burkina Faso in Mali, in Senegal e a capire quali sono i progetti delle persone quali sono le idee quali sono le idee che non gli sono ancora venute perché non esiste la possibilità tanta gente parte a cazzo scusate francesismo perché non esiste la possibilità allora neanche mi immagino un mio percorso migratorio perché l'unico percorso migratorio che mi hanno detto che si fa è salire su un camion perché io vi ho detto sono stato nel Tenere nel 2006 cioè vuol dire che questa storia esiste da almeno 12-15 anni vuol dire che ci sono delle generazioni di ventenni a cui hanno detto questo è l'unico modo con cui tu puoi costruire il tuo progetto migratorio cioè devi decidere se rischiare la vita nel deserto o no non c'è un'altra cosa e lì non stiamo facendo niente e dici sì vabbè ma dove li troviamo i soldi per fare qualcosa lì è Cristo e Dio tutti i soldi che stiamo spendendo da anni per fare politica del cazzo completamente inutili che non fanno nient'altro che aumentare tensione sono tantissimi quei soldi i soldi che le NG tirano su per andare a salvare le persone sarebbero felicissimi di poterli usare per costruire progetti migratori firituosi e non spenderli per inventarsi delle barche per salvare persone perché le barche per salvare persone riccardo costano tanto tutti i giorni la benzina da mettere dentro a quelle barche l'equipaggio da mettere dentro a quelle barche la nostra costa 6.787 euro al giorno cioè sono e loro risparmiano perché vi assicuro che le navi militari costano molto di più ma tutti quei soldi che sono messi per gestire il problema dove il problema non c'è cioè dove il problema emerge o immerge ma il problema non è lì tutti i soldi messi nei luoghi dove il problema non si può risolvere che da 15 anni continuiamo a mettere in quei luoghi dove il problema non si può risolvere tutti quei soldi potrebbero essere utilizzati invece per andare nei luoghi da cui le persone partono e non sanno come partire è questo il sogno che dobbiamo provare a far raccontare e a far crescere insieme e questo è il modo con cui possiamo scardinare l'incubo dentro a cui siamo che è un incubo che peraltro si prende anche ovviamente se ci fermiamo un attimo a guardarlo si prende delle sberle pazzesche cioè oggi avete visto la faccia di Salvini in Libia qualcuno l'ha vista? cioè lui oggi è andato in Libia tronfio dei suoi successi lui è riuscito a salvare 820 persone che vengono rimandate in Libia di cui come vi diceva Riccardo ce ne sono almeno 180 200 disperse e lui ha ringraziato come padre questa follia schifoso e tronfio di tutto ciò è andato in Libia a tentare di ottenere ulteriore successo a dire noi adesso siamo qui a collaborare col meraviglioso popolo libico parlava ovviamente con un pezzettino di uno dei poteri che stanno dilaniando la Libia in questo momento e questo pezzettino gli ha risposto non potete e lui ha avuto un momento di panico vero che ha detto cazzo c'è c'è un cazzo di musulmano libico che mi può dire che non posso e non se l'aspettava affatto ma perché questo è naturale che invece questo gli sia successo al povero Matteo perché se lui continua a pensare che questa cosa si possa risolvere gestendola dentro ad una sorta di ombelico imbuto dentro a cui ci stiamo infilando mentre intanto il mondo si complessifica abbastanza appena mette fuori il naso da questo ombelico imbuto si beccano una serie di botte che però fanno del male chi se ne frega che facciano male a lui ma fanno malissimo a noi e malissimo alle persone coinvolte in questa storia allora io credo che con un po' di intelligenza e attenzione smontare questo incubo non ci voglia molto ma la cosa più grande più difficile e però più bella che ci può dare più energia da fare insieme è avere il coraggio di costruire un sogno veramente alternativo a quell'incubo e come tutti i sogni è un sogno difficile da fare ma avere un sogno difficile da fare ti permette di andare avanti l'incubo invece ti fa sentanto chiuderti in casa e sperare che tutto ciò possa conservarsi e a me le conservazioni non mi interessano grazie